Ben ritrovati a Quarta di Copertina, la trasmissione che parla di libri, autori, editoria e tutti coloro che amano scrivere, amano i libri e amano pubblicare. Una trasmissione che si rivolge non soltanto a autori e scrittori, ma magari anche a coloro che ruotano intorno al mondo dell'arte e vogliono realizzare o hanno realizzato un buon catalogo, una buona iniziativa editoriale che racconta magari di un artista. Proprio per agganciarci al mondo dell'arte e anche al mondo del romanzo e della letteratura, con noi oggi abbiamo un ospite d'eccezione, il professor Giovanni Cordero, psicologo, critico d'arte, è anche stato consulente del Ministero per i beni culturali, ha lavorato per la sovrintendenza, quindi è un personaggio che l'arte, soprattutto quella piemontese, la conosce molto molto bene. Intanto grazie di essere venuto a trovarci. Grazie a voi. Approfitto intanto per ricordare che le nostre interviste sono realizzate in totale sicurezza, perché tra me e l'ospite c'è un plessiglass che separa comunque le persone, quindi siamo protetti dal punto di vista del contagio e quant'altro. Gli ospiti delle nostre trasmissioni vengono accolti rigorosamente con la mascherina e quindi potete venire a farvi intervistare nella nostra trasmissione con serenità e tranquillità. Basta contattare Obiettivo News oppure me alla mail deborabocchiardo.com. Giovanni Cordero, cominciamo a presentare ai nostri spettatori chi sei, come nasce Giovanni Cordero? Perché Giovanni Cordero ha due lauree, una in biologia e una in psicologia e poi si è dedicato all'arte. Un percorso un po' tortuoso. Sì, 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 un lungo percorso. In effetti non sono giovanissimo e quindi ho avuto la possibilità di fare lunghi percorsi durante la mia vita. Sì, inizio come biologo e poi dopo mi sono interessato sempre come biologo per quel che riguarda l'antropologia e nell'ambito dell'antropologia mi sono specializzato nell'etologia, cioè lo studio del comportamento umano. Di lì poi mi sono detto una laurea in psicologia ci vuole, no? E quindi mi sono dedicato allo studio del linguaggio del corpo, della comunicazione non verbale. Ma siccome io avevo un pallino, un desiderio sommerso di espressione nell'ambito delle arti figurative, ho detto perché non uniamo la comunicazione non verbale con l'arte che è sempre stata la mia passione? E allora mi sono messo a studiare l'arte e soprattutto l'arte del Novecento. Ecco che di lì poi dopo ho pubblicato diversi libri d'arte, mi sono informato sempre su quello che sono le caratteristiche più aggiornate dell'arte contemporanea e poi ho avuto la fortuna per diversi anni di lavorare al Ministero della Cultura, come si chiama adesso, con il Ministro Urbani per l'arte contemporanea e sono stato uno dei, come dire, fondatori del Maxi di Roma. Ecco un personaggio vivace, eclettico, che ha una caratteristica, a parte la semplicità e la grande cultura e la grande simpatia devo dire, la capacità di essere molto plastico, quindi unisci un po' i diversi ambiti della tua vita, per cui anche scrivere romanzi, creare i personaggi dei tuoi romanzi diventa un po' un modo per filtrare la realtà e farla entrare nel mondo della scrittura. Sì, è proprio così, in effetti io mi avvalgo un pochettino della mia preparazione psicologica perché mi piace poi nei miei personaggi indagare i meandri della psiche, capire un pochettino perché le persone si comportano in certo modo e perché fanno certe scelte. Ecco che allora i miei romanzi più che dei gialli, più che dei noir, sono dei romanzi di introspezione psicologica. Ecco, ma capita che poi leggendo i libri le persone se li conoscono o le camuffi in qualche modo? Beh, bisogna dire che ogni scrittore prende sempre dalla propria realtà quotidiana i personaggi che porta nei suoi libri. Naturalmente sono le persone che ho conosciuto o che ho frequentato e che poi dopo travesto, trasmuto, cambio, però diciamo che c'è sempre un forte approccio alla realtà e alla verità che ho conosciuto. Ecco, noi oggi parliamo di due libri che sono un po' i tuoi ultimi due nati. Uno è l'albergo dei gatti e l'altro l'impronta di cioccolato. Io comincerei con l'albergo dei gatti perché, anche se non è recentissimo, è un libro in cui hai dato prova di preveggenza perché parla di un virus che ha devastato il pianeta costringendo tutti a cambiare vita e di sopravvissuti a questo virus che si adattano a vivere in un mondo completamente trasformato. Ma come ti è venuto in mente? Beh, come biologo io leggo anche riviste scientifiche, non soltanto riviste d'arte, no? E negli anni 10 del 2010 c'erano diversi articoli che incominciavano già a preoccuparsi un pochettino del futuro che andava incontro a manipolazioni genetiche, a esperimenti sul biologico, quanto mai inquietanti. E allora mi sono inventato questo futuro distopico di questo 2030, dove una pandemia universale avrebbe cambiato completamente i connotati del mondo. Non sapevo assolutamente che sarebbe avvenuto veramente, no? Non volevo fare il profeta di malaugurio, no? Però ho detto se devo osare per immaginarmi un futuro, più che un futuro da paradiso terrestre, penso un paradiso infernale dove tutto è cambiato, dove tutto è modificato, no? E di fatti poi adesso ci troviamo in una realtà che il mondo è completamente modificato proprio da un microscopico virus. Ecco, in realtà l'albergo dei gatti è un viaggio nel tempo, tocca diverse epoche, vuoi parlarcene? Sì, tocca fondamentalmente tre epoche che hanno visto tre grandi cambiamenti. La prima parte è ambientata a Granville, una piccola cittadina in Normandia, al tempo del terrore nella Francia, della rivoluzione francese. Siamo nel 1793, la Francia è devastata da guerre interne, guerre esterne, guerre fra le fazioni politiche, no? Pensiamo al terrore dove tutti erano sospettati di qualcosa e la ghigliottina tagliava le teste come un'affettatrice, no? Ecco, in questo clima di terrore, sulla collina di Granville, vive una bella dama, un'intellettuale che ama i gatti. La seconda parte, perché questa dama scompare a un certo punto, lascia dell'eredità, la seconda parte c'è di nuovo un salto temporale, come nei miei libri, a me piace un po' fare delle acrobazie temporali e siamo all'inizio del Novecento, siamo al 1913 e l'Europa si sta preparando la seconda guerra, la prima guerra mondiale. Di nuovo una grande tragedia, siamo sempre nella stessa villa a Granville, in questa villa abitano sempre delle persone che amano i gatti e nella ristrutturazione della villa in un camino scoprano una cosa, un tesoro, diciamo così, che non dico, ma che ci proietta poi nella terza parte. Quella nel futuro. Quella nel futuro, che inizia già all'inizio del 2000, no? Però la grande proiezione sarà poi nel futuro, dove si scoprirà che cos'è questo tesoro nascosto nel camino e lancerà un messaggio per le future generazioni. Ecco, questo viaggiare nel tempo, le ricostruzioni sono fedeli, i luoghi sono fedeli, esistono? Sì, 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 sono fedeli perché proprio un po' la mia indole di appassionato d'arte e di funzionario di sovrintendenza mi ha portato a essere più preciso possibile. Io sono stato a Granville 15 giorni, ho vissuto lì, ho visto questa villa, ho visto questo giardino che custodisce questa villa, ho girato per le strade, per i luoghi storici di Granville e diciamo che è tutto documentato, come sono tutti documentati i personaggi. Tolto Françoise Cassignac, che è una protagonista di fantasia, molto intrigante, però rispecchia molto, diciamo così, le intellettuali della rivoluzione francese e poi anche la seconda eroina della seconda parte che ricorda una suffragetta parigina. I personaggi sono descritti tenendo conto proprio della precisione storica anche. Ecco, passiamo all'altra opera, L'impronta di cioccolato. Di solito si chiede all'autore per chi è questo titolo, io non lo chiedo perché il titolo, il motivo di questo titolo lo dovrete scoprire leggendo il libro altrimenti svegliamo qualcosa di troppo particolare. L'impronta di cioccolato è abbastanza recente, credo sia di un paio d'anni. Sì, è uscito due anni fa. Ecco, ci vuoi parlare di questa storia? Anche qui abbiamo dei viaggi nel tempo però, più recenti. E una Torino tra l'altro molto particolare, di un periodo molto particolare. Eh sì, sì, sì. Ebbè, il viaggio nel tempo qui è di circa 50 anni fa perché siamo nel 1970, anche qui di nuovo un periodo, gli anni 70, di grande cambiamento, di grandi stravolgimenti storici. Se voi pensate c'è stato il 68, c'è stato lo sbarco sulla Luna nel 69, ci sono state le grandi tensioni politiche, gli scioperi, il sorgere sul territorio di bandi armate, pensiamo alle Brigate Rosse. Ecco, io in quel periodo avevo 20 anni, ero giovane, facevo l'università a Torino e ho avuto la fortuna di vivere questo marasma sociologico e sociale, no? Era di nuovo un periodo in cui si sperava in un futuro diverso, migliore, no? Tutti noi speravamo, sognavamo l'utopia di nuovo. Un'utopia non distopica, ma una bella utopia. Ecco. Tu hai conosciuto Gustavo Roll o mi sbaglio? Gustavo l'ho conosciuto, l'ho conosciuto, era già molto anziano, ma ho avuto la fortuna di conoscere questa grande anima che veramente aveva qualcosa di speciale, aveva qualcosa di... che riusciva a trasmetterti un'energia che sentivi proprio quasi fisicamente. Tangibile, quasi tangibile. Quasi tangibile, sì. Poi questi occhi penetranti, questa voce, sua dente, veramente un grande personaggio. Ecco, l'impronta di cioccolato però io li ho letti tutti e due e credo che ci possa essere un film rouge per quel che riguarda le figure femminili. Perché questa figura di Rosa, molto decisa, molto indipendente, ricorda un po' queste donne giacobine della rivoluzione, indipendenti che avevano voglia di affermazione. Lei invece è una donna relativamente moderna, se non sbaglio con un figlio, che ha la sua autonomia, la sua vita e va a scontrarsi con quelle che sono invece, diciamo, le tradizioni del momento che sono ancora appesantite da tutti i retaggi delle generazioni passate. Verissimo, Deborah. Tu hai centrato proprio con precisione il fatto che le mie protagoniste, le mie eroine, sono delle donne particolari. Sì, perché parlo di donne? Perché sono convinto che il futuro è della donna. Il futuro veramente vedrà un'emancipazione totale della donna e sarà la grande protagonista del futuro. Come nell'albergo dei gatti, anche qui la protagonista è una donna coraggiosa. Una donna, una maestra, che rimane incinta e voi sapete che ancora negli anni 60 rimanere incinta e non essere sposate era una colpa molto grave. La maggior parte delle povere donne ricorrevano alle mammane per abortire e per liberarsi del frutto del peccato. No, invece Rosa è una donna forte, coraggiosa, che vuole tenere il frutto del suo amore, perché il figlio lei l'ha voluto fin dal primo momento che l'ha concepito. E coraggiosamente si mette contro la società del tempo. Per fortuna quelli sono anche gli anni in cui ci saranno poi le lotte per l'aborto libero, ci sono le lotte per la pillola. Finalmente le donne sono libere, anche dal punto di vista sessuale, proprio perché la pillola dà loro una grande valenza di libertà. Ecco, questa donna però deve lasciare il sud dove è nata e viene nel profondo nord a fare una supplenza con il suo bambino piccolo e viene accolta in questa località di montagna dove vige il patriarcato, al contrario della mia idea della donna libera, no? Lì veramente è tutto più duro, no? Però la sua dolcezza, la sua intelligenza, la sua disponibilità fa sì che tutta la comunità si innamori di lei e lei si innamora di uno, di questo paesino di montagna e rimane di nuovo incinta. Perché? E' un vizio però, eh! Era un vizio bello quello di fare l'amore, no? A quel punto è un vizio! Però, ahimè, non riesce a arrivare di nuovo al matrimonio perché una tragedia li coinvolge di nuovo. E noi non diciamo nient'altro. E noi non diciamo. Si va avanti, si va avanti. Per mettere un po' di gusto in più a chi ci segue vi dico subito che a volte in libreria uno apre il libro comincia a leggere, vede le prime pagine cerca di capire che cosa l'attende andando avanti nella lettura ecco, non fatevi incantare perché all'inizio si trova il personaggio in una difficoltà un po' particolare ma per capire perché si trova in quella difficoltà dovrete assolutamente leggere tutto il libro e arrivare al fondo perché poi c'è anche una vena di giallo in questo nostro discorso. C'è una vena di giallo, c'è senz'altro un momento tragico molto verosimile, probabile che sia successo proprio così perché sono poi andato a documentarmi sui giornali dell'epoca però non dico oltre. In effetti il libro inizia dalla fine della storia. Quindi anche qui questo giocare con il tempo che ti piace molto. a rimpiattino fra le varie epoche ma dirò di più che tutti quelli che l'hanno letto quando arrivano alla fine che scoprono che è quasi l'inizio dicono beh adesso però devi scrivere il sequel di questo libro perché adesso inizia un'altra storia perché è tutto un gioco così di rimpiattino. Invece io ti faccio una domanda un po' particolare a proposito di sequel perché l'anno scorso più o meno in questo periodo hai fatto appena in tempo di inaugurare una mostra straordinaria su un personaggio veramente misterioso, simpatico, dolce dell'arte torinese che è Cassina e adesso ti stai dedicando a una ricerca su questo personaggio quindi il sequel della mostra in realtà è stato riscoprire il personaggio riscoprire il personaggio un personaggio veramente di un grande spessore emotivo ma anche intellettuale ma anche artistico sì io non conoscevo assolutamente Pietro Augusto Cassina quando mi è stato presentato mi hanno soltanto fatto vedere i suoi quadri Vittima e protagonista della sua epoca diciamo Vittima e protagonista sì perché ha sempre un po' vissuto ai margini lui era un artista che ha avuto una vita molto travagliata tanto è vero che quando ho scoperto poi la sua biografia me ne sono innamorato ancora di più ero già innamorato della sua arte anche quest'arte strana, espressionista, di getto però ho poi scoperto che lui ha avuto una vita veramente infernale perché all'età di 11 anni è stato messo al Cesare Beccaria al riformatorio Cesare Beccaria perché era scappato di casa praticamente poi dopo a 23 anni un'accusa nei suoi confronti fanno sì che lui venga per un anno rinchiuso nel carcere del carcere psichiatrico di Collegno e poi dopo due anni di nuovo verrà ricoverato nel carcere di Collegno e ci rimarrà per nove anni lì dentro però è proprio lì che inizierà a disegnare se non ricordo male inizia lì grazie a una suora che capisce lo spessore umano di questo individuo e gli fornisce la carta, i pastelli, i colori e lui si salva l'arte lo salva l'arte lo salva si mette a leggere diventa un lettore compulsivo scrive i suoi diari ecco io ho avuto anche la fortuna di accedere direttamente ai suoi diari dove con linguaggio immaginifico fra il mistico e il sensuale descrive la sua vita passata quella presente nel manicomio di Collegno e poi la cosa più incredibile che lui è stato incarcerato la seconda volta perché era un antifascista tu sai che molti li mandavano al confino eccetera lui è stato mandato non in un'isola del Mediterraneo ma per nove anni nel carcere psichiatrico di Collegno ecco i partigiani vengono a liberarlo col carro armato entrano nel manicomio lo chiamano lui sale sul carro armato e prende la via delle Alpi e diventa anche lui un partigiano la pensa e di questo personaggio restava traccia anche nell'immaginario torinese sì molti l'hanno conosciuto molte persone l'hanno conosciuto perché era un tipo strambo un tipo che frequentava anche molti intellettuali perché lui si era poi costruito tutta una sua cultura personale e quindi conosceva Mariannini conosceva la Fumero conosceva tutti questi personaggi del Torino degli anni 60 e 70 e lui scrive anche una pièce teatrale che si chiama I mal creati di cui io ho una copia che è stata presentata negli anni 60 una cosa particolare molto complicata molto piena di anche qui rimandi fra lo storico e lo psicologico e io sto raccontando in un romanzo questa vita particolarmente complessa di un artista e quindi la tua fatica attuale in gestazione è un romanzo sulla storia vera di Cassina proprio così allora io quando questi collezionisti mi hanno chiesto di presentare al Museo di Ecesano una selezione delle opere di Cassina perché molte sono di ambientazione religiosa e io interessato alla vita e alla biografia di questo personaggio ho detto ma magari potrei anche scriverci una breve biografia un romanzo breve visto che è una vita così interessante questo romanzo breve tuttora sono a 300 pagine è diventato lungo è diventato lungo perché sta quasi diventando il romanzo della mia vita è diventato lungo mi sono talmente immedesimato che mi ha preso e mi porta veramente a cercare di capire anche dal punto di vista psicologico le sofferenze che poi vengono sublimate vengono trasformate nei quadri di questo artista ecco ancora una volta nella tua vita la psicologia incontra l'arte e incontra la scrittura in questo caso in un momento come questo in cui la scrittura può diventare magari anche una valvola di sfogo quanto è importante concretizzare questa voglia di scrivere quanta importanza può avere la scrittura per alleviare anche la solitudine di chi ci ascolta che magari è indeciso se dare o no sfogo a quella vena poetica che sente dentro è importantissimo soprattutto nel periodo di lockdown e di coronavirus dove noi siamo obbligati a chiuderci nella nostra intimità nel nostro privato e avere pochissime relazioni con gli altri se tu hai la fortuna la possibilità la voglia il desiderio di metterti lì e raccogliere i tuoi pensieri veramente scopri dentro di te un mondo infinito enorme che veramente ti dà un piacere nel ritrovarti nelle tue parole allora io come psicologo sono uno psicologo dell'età evolutiva mi interessano tantissimo i disegni infantili i disegni infantili sono la prima forma di espressione di comunicazione dei bambini i bambini non sanno scrivere però sanno già disegnare ogni bambino nasce già sapendo disegnare comunicare prima ancora di sapere scrivere e i bambini con quel disegno raccontano la loro vita raccontano la loro famiglia eccetera allora se uno non ha voglia o non ha la possibilità o non ha la forza o l'energia di scrivere disegni ogni suo disegno è un racconto che vale la pena di essere conservato e di tenerlo caro bene io vedo che il tempo a nostra disposizione si sta quasi esaurendo c'è qualche progetto di cui ci vuoi parlare che ti è particolarmente caro? beh il progetto è di finire senz'altro questo romanzo su Cassina poi ho un progetto di un altro libro che avevo già iniziato ma non l'ho finito non l'ho portato a termine perché mi sono troppo infervorato alla biografia di Cassina e quello dovrò assolutamente portarlo a termine e poi c'è un altro romanzo un romanzo familiare un romanzo che tocca la mia famiglia perché mio zio partigiano è morto dieci giorni prima della liberazione mia madre è andato a prenderlo con la carretta fucilato dai tedeschi ed è una pagina della storia familiare molto molto vissuta molto intensa che voglio portare nei miei romanzi bene noi ringraziamo Giovanni Cordero psicologo critico d'arte scrittore ormai conosciuto affermato e apprezzato chiudiamo qui anche questa puntata di Quarta di Copertina io vi aspetto nelle prossime puntate per parlare di libri di avventure letterarie di iniziative editoriali legate non soltanto alla letteratura ma magari anche all'arte quindi con dei bei cataloghi con delle belle iniziative per farlo vi ricordo che basta contattare Obiettivo News oppure me alla mail deborabocchiardo chiocciola gmail.com faremo un'intervista in totale sicurezza qua in studio vi verrà fornito sia il link per i social sia una versione in alta risoluzione da utilizzare come meglio ritenete quindi vi aspettiamo numerosi chiedeteci informazioni e venite a trovarci chiudiamo qui anche questa puntata arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.